L'idea dominante dell'intera Sagra Scrittura è quella di presentare l'amore di Dio verso le creature che molto spesso rispondono con l'incratitudine e l'inferietà all'amore misericordioso di Dio. Il Nuovo Testamento ci presenta la realtà umana con le sue debolezze e cattiverie ma ci invita ad un campiamento di rotta completo e definitivo. Convertitevi e credete al Vancello. È sempre Cristo che va in cerca della pecorella smarrita ma è l'uomo che si deve muovere per camminare a destra e a sinistra per andare in cerca della pecorella smarrita. Bella la Chiesa piena di fedeli che pregono magari a tutte le ore del giorno. Bellissimo! Ma non è tutto perché è fuori che Gesù ci manda e dice avete pregato me e adesso andate in cerca della pecorella smarrita. Forse su questo noi siamo un po' deboli e difettosi. Dalla scuola dei Racket che portiamo un'esperienza di vita. Nove ragazzi accusati di estorsione sono finite dietro le sbarre del Baccaria. Figli di famiglie per bene, hanno buone vuoti e in pagella è un solo mito, il denaro. Il direttore del carcere ha chiesto a uno dei ragazzi ma perché l'hai fatto? La risposta è stata questa. Per i soldi, soltanto per i soldi. Si chiede il pizzo per essere come gli altri, per avere i vestiti firmati, per andare in discotea, per mettersi tutto quello che si vuole. Questa è la dichiarazione di un ragazzo messo alle manette, messo in carcere per aver approfittato del pizzo. È la società di oggi di queste forme deviate della società, anche dei giovani, è piena e tutte le associazioni cattoliche, tutte e tutte le organizzazioni religiose devono prendere atto di questo, di uscire un po' dalla chiesa e andare in cerca della pecorella smarrita. L'Evangelista Giovanni ci rivolge una raccomandazione. Non amate né il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal padre, ma dal mondo. Il peccato è alla porta, tanto più insidioso quanto più inavvertito e preso a piccole dosi. Dobbiamo vigilare e pregare, ma nello stesso tempo fare un esame di coscienza a livello di gruppo per scoprire le piaghe della società moderna. Non aspettiamo che oggi, come oggi, venga il diavoletto e ci impambola, oppure ci fa tremare di paura e ci spinge a male. Non c'è bisogno. Oggi anche il demonio si è aggiornato. Si serve degli uomini. Fa vedere agli uomini il guadagno facile e spinge al disordine morale. I profeti hanno espresso l'alleanza con l'immagine coniugale. Dio è lo sposo e il popolo la sposa. Quando il popolo di Israele adora altri dei, viene chiamato sposa adultera, infedele, prostituta. Speriamo che questa stimmata negativa non cada su ciascuno di noi. Gesù predica la conversione e va in cerca della pecorella smarrita, ma rimane impotente dinanzi a chi rifiuta la luce, a chi pensa di non aver bisogno di perdono. Noi ci domandiamo perché l'inferno, se Dio è buono, massima bontà, massima misericordia, e poi tiene in atto l'inferno dove le anime soffrono. Perché tutto questo? Perché gli uomini dicono non vogliamo stare con Dio, vogliamo essere liberi e fare il cosmo nostro e soffrire, ma lontana da Dio. Dio non può salvare l'uomo se l'uomo non accetta la salvezza. Perché? Perché Dio ci ha lasciati liberi e ci rispetta. Chi predica la conversione e va in cerca della pecorella smarrita, non rimane impotente dinanzi a chi rifiuta la luce, a chi pensa di non aver bisogno di perdono. L'accoglienza del perdono esige il riconoscimento delle nostre colpe. L'Evangelista Marco afferma che non sarà mai perdonato il peccato contro lo Spirito Santo che è il rifiuto della misericordia di Dio. Dio dice vieni, 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 non voglio venire. E Dio che cosa può farci? Niente, rassegnarsi e soffrire, se poi si può intendere la sofferenza come la intentiamo noi. L'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo dice Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questo primo sono io. Senza grandi argomenti Paolo annuncia che è stato salvato dalla bontà di Dio. Anche per noi che quanto a infedeltà non siamo secundi all'Apostolo Paolo che si dichiarava peccatore, tutta la vita è un trionfo della misericordia di Dio. Volendo fare un riferimento a Padre Pio, notiamo che è impegnato in una continua e sofferta conversione. In una lettera che scriva Padre Benedetto, che leggiamo. Mi rammarico soltanto che senza volerlo e senza avvertirlo qualche volta mi accade di alzare un po' la voce in quello che riguarda la correzione. Conosco essere una debolezza riprovevole, ma come fare per poterla evitare se mi accade senza accorgermene. Eppure prego, gemo, mi lamento con nostro Signore per questo, ma non ancora mi esaudisce appieno. E nonostante tutta la vigilanza che vi pongo in questo, qualche volta mi tocca fare quello che purtroppo io abbrisco e voglio evitare. Continuate anche voi a raccomandarmi alla divina pietà. Un giorno trattò male una penitente, qualcuno gli fece osservare, ma padre l'avete ammazzata quell'anima? E Padre Pio, no, me l'avrei stretto al cuore. E a un'altra persona che gli faceva notare il suo duro comportamento, diceva, cosa credi che io abbia un cuore di sasso? L'ho fatto per il suo bene.